Ciao a tutti da Chris Altij, il salutatore del blog, eccomi qui con un grandissimo Luciano Lembo! Sono d'accordo, sono d'accordo, un grandissimo! Che bella st'energia che c'hai fratello! Ecco qui, un rapper, Chris Altij! Allora, salutiamo tutti i social network, il mio profilo di Facebook che seguo personalmente perché non si può, non si può mettere un'altra persona, bisogna viverle le cose e la vivo come se stessi lì, quindi grazie a voi gli amici di Radio Globo, ma insomma tutti quelli che ci stanno a vedere insomma, un saluto, siamo tutti amici, da sempre, pure se non lo sapemo! Grandissimo Luciano, un rapper De Niro! Fanculo ragazzi, ok? Fanculo, vi voglio bene, se sono chiacchiere a Facebook, fanculo, fanculo! Grazie Luciano, salutiamo Renatino! Dai, volemo se bene, non si lasciamo mai, dai, mi piace st'uomo! Ciao! Ciao a tutti, Chris Altij, il salutatore del blog, grandissimo Luciano! Grande voi, grazie! Ciao agli amici di Radio Globo, ciao!